Ciao, sono Elisa e ho 23 anni. Durante questa emergenza sanitaria mi manca tantissimo abbracciare la mia nonna, perciò ti chiedo di rispettare tre semplici regole. La prima è lavarti accuratamente le mani, la seconda è indossare la mascherina e la terza è mantenere il distanziamento sociale. Forza raga, tocca a noi, seguiamo le regole e abbattiamo il virus!